Francesco Baldassari, una sconfitta oggi del Megustasi 3-0 per il New Team, sensazioni dopo questa sconfitta, dopo questa partita che non è stata sicuramente giocata bene dalla vostra squadra? Beh, è stata giocata bene perché loro hanno trovato subito il gol e ci hanno già un po' demoralizzato. In realtà al primo tempo abbiamo giocato bene, pur se loro hanno un bel palleggio, abbiamo tenuto un po' il pallino gioco, a parte quelle due occasioni hanno fatto poco. Poi la ripresa ci stavamo un po' disuniti, abbiamo giocato poco da squadra e più senza testa e hanno meritato di vincere. Gli facciamo i complimenti e pure un grande bocca al lupo per proseguire il torneo. Siete arrivati a questa partita, bisogna dire, non certo in grande condizione perché nelle ultime otto partite due sole vittorie, tra cui una a tavolino. Quali sono state le ragioni per questo calo di concentrazione o magari questo calo fisico per questo giorno di ritorno non convincente del Megustasi? Un po' tutto, un po' tutto perché sia il fisico, dopo le feste di Natale soprattutto, poi oggi dopo Pasqueta, insomma ieri è stata la giornataccia. Però sì, pure un po' di concentrazione, un po' di meno fame, forse più adagiati sul giro dell'andata e invece poi il ritorno cambiava tutto. Il calcio non è nuovo a queste storie. Ultima domanda per te, svanisce il sogno del Megustasi nel giro di due anni di passare dalla Serie B alla Serie A, comunque immagino che l'anno prossimo ci riproverete. Sì, sì, ci riproveremo, cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato e dove possiamo fare di più. Svanisce il sogno, però alla fine rimane comunque il gruppo, il divertimento è la cosa più importante. Statt'anno cercheremo di fare il meglio. Grazie. Ciao, complimenti.